Il progetto Art in Your Pocket ha dato l'opportunità unica agli studenti IED di vedere associati i propri artwork al lancio ufficiale del nuovo prodotto Huawei. La creatività agli occhi di un brand come Huawei è fondamentale perché non solo ci permette di arrivare ai nostri consumatori in modo originale anche di posizionare sia il brand che il prodotto a un livello premium e differente ma anche proprio per distinguerci dai nostri competitor. Prima di partecipare a questi progetti comunque non sapevo ancora bene come funzionasse veramente un progetto vero e proprio. Ci dà l'occasione di interfacciarsi con quello che è il mondo del lavoro a livello grafico pur essendo ancora studenti. Il mondo del lavoro al primo anno lo vedevo con una cosa molto lontana a me, però attraverso il percorso fatto all'interno di IED mi ha aiutato a sentirmi più pronta. Abbiamo cercato di sfidare gli studenti di IED con un vero e proprio progetto che darà anche modo agli studenti di capire quali sono state le fasi e i momenti che più li hanno appassionati per poi capire in futuro che cosa vorranno fare nella loro carriera professionale. Grazie. 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 Grazie.